Musica Questa protesta tra l'altro a pochi metri dal centro di accoglienza di via Molinelle a Monteforte, come mai questa iniziativa tra l'altro con le bandiere tricolori? Sì, siamo qui stamattina perché per denunciare l'ennesima aggressione che è avvenuta appunto pochi giorni fa a discapito di una badante che è stata prima aggredita da tre nigeriani che poi solo dopo giorni è uscito allo scoperto il fatto che fossero ospiti comunque di un centro di accoglienza appunto per tenere a bada gli animi della cittadinanza che comunque ci ha contattato e ci ha chiesto appunto di dare una mano perché si sentono abbandonati. Sì, fondamentalmente si sentono abbandonati dalle istituzioni perché vedono che comunque cittadini stranieri che vengono aiutati mentre ci sono famiglie italiane specialmente qui a Monteforte che non hanno neanche una casa dove stare e quindi si stanno ribellando diciamo così. Cosa chiedete alle istituzioni? Chiediamo comunque, prima cosa, chiediamo la tutela dei cittadini italiani quindi più sicurezza qui a Monteforte sicuramente e la chiusura anche del centro d'accoglienza perché comunque numericamente sono troppe lo sappiamo che sono in sovrannumero. La vostra protesta continuerà oltre il settino di stamane? Sì, oltre il settino di stamane saremo anche domani ad Avellino con un banchetto appunto informativo e di protesta per far chiudere i centri d'accoglienza ad Avellino e in tutta la provincia. Ok.